Il Milan vince per 2 a 0 contro il Los Angeles Galaxy, aggiudicandosi il terzo posto nel campionato estivo della Guinness Champions Cup. A Miami i rossoneri si impongono grazie alle reti, entrambe siglate nel primo tempo, di Balotelli al 17esimo minuto e di Yang al 40esimo minuto. Un Milan nuovo quello visto contro il Los Angeles Galaxy, pronto per le sfide più importanti. Il primo tempo offre un bello spettacolo, i ritmi sono buoni e gli spettatori soddisfatti. Il secondo, fra cambi e stanchezza che avanza dopo l'allenamento duro del giorno prima, è un po' così. Anche il leggero infortunio accusato da Balotelli dovrebbe finire in niente, probabilmente si tratta solo di semplici crafti. Sono soddisfatto, abbiamo giocato una buona partita, dice il tecnico Allegri. Siamo sulla strada giusta per il play-off di Champions League. E in riferimento al giovanotto Niag afferma. Ha segnato un bel gol, ha grandi potenzialità, ma è un ragazzo e ai ragazzi bisogna dar tempo.